Scuola Oltre presenta i nuovi corsi di formazione webinar Eccoci, siamo su Facebook, siamo partiti, stiamo iniziando con questo nuovo webinar gratuito grazie anche a chi ci sta, si sta connettendo man mano su Facebook anzi per chi ci segue se avete piacere potete sempre andare a condividere la diretta di oggi i nostri post, i nostri video in modo proprio da divulgare il più possibile questi spunti che noi vediamo ci farebbe davvero piacere, in fondo Scuola Oltre è un'associazione quindi siamo tutti insieme in un grande gruppo in cui ci si dà una mano la condivisione per chi ci conosce è sicuramente un punto forte su cui ci cerchiamo insomma di tenere sempre a mente durante i nostri webinar durante i nostri corsi, durante i nostri percorsi e laboratori infatti il materiale rimarrà sempre a voi per sempre ci sarà la possibilità di parlare delle vostre esperienze con le scuole in connessione di vedere le esperienze degli altri gruppi, quindi è un'associazione quindi se voi ci aiutate a sostenerla e a divulgarla vi ringraziamo ma passiamo all'incontro di oggi, man mano che entrano le varie persone cerco di darvi tutte le varie indicazioni oggi siamo qui di nuovo con un quarto, ormai mi pare che sia il quarto corso vero Elisa? Si stanno moltiplicando, i libromani si moltiplicano oggi è il primo incontro di un corso dedicato a un evento, una festività che è molto amata dai bambini e noi abbiamo bisogno di trovare qualcosa con cui condividere con loro questa gioia, questa felicità oggi primo incontro dei libromani speciale Natale per chi non conosce i libromani oggi scoprirete, vi si aprirà un mondo, una finestra su un mondo nuovo e per chi invece già li conosce perché ha già partecipato ai libromani la prima edizione, allo speciale primavera, allo speciale mare oggi avrete numerosi ulteriori spunti per andare verso questa festività che io non sono quella che fa i conti dei giorni però manca poco alla fine un mesetto e ci siamo allora vi do anche qualche informazione di routine ovvero oggi è un webinar gratuito quindi potrete vedere una prima bozza, una prima suggerimento proposta di quello che sarà invece il percorso che affronterete insieme a Elisa Mattoli durante questo corso complesso il corso si struttura di tre incontri di cui oggi appunto il primo è gratuito quindi chi vuole può anche firmarsi qua, chi vorrà si potrà iscrivere e avere accesso a tutta una serie di proposte e di materiale che verrà messo a disposizione ovviamente solo per i corsisti quindi quel materiale sarà unico solo per voi sarà tutto sempre registrato proprio perché vogliamo che abbiate modo di rivedere tutte quante le dirette le registrazioni, di rivedere i passaggi soprattutto in questo corso è molto importante può essere utile ma anche perché avete un punto di rifermo a cui astringere magari anche tra un anno perché no oggi vi avrete comunque accesso ad un attestato di partecipazione il cui link lo andrò a postare sia sulla chat di Zoom che tra i commenti di Facebook quindi chi è su Facebook non vi preoccupate io seguo la chat sarò la vostra voce vi posterò anche il link alla pagina dedicata sul sito dedicata proprio ai libro on mani speciali natale dove trovate tutte le informazioni quando si tengono i corsi, cosa si affrontano come argomenti, quanto costa, come ci si può iscrivere io dopo vi darò un riassunto di tutte queste informazioni però sappiate che sul sito le trovate comunque tutte va bene? io buonasera da Padova, anch'io sono da Padova quindi buonasera Anna Maria siamo, ci vediamo vicine ma lontane nello stesso momento e grazie a tutti perché so che c'è qualcuno che ci segue anche da molto lontano quindi grazie davvero detto questo mi taccio perché sto prendendo anche troppo tempo lascio la parola alla nostra formatrice di oggi Elisa Massoli per una presentazione e per un bellissimo e soprattutto creativo corso buona visione a tutti grazie mille Francesca, grazie a Scuola Oltre per questo ulteriore invito a incontrare libromani anche lontani e questo mi fa sempre tanto piacere perché il gruppo dei libromani che come diceva Francesca è nato tanto tempo fa, è nato vent'anni fa con i bambini ma si nutre e prende vigore e forma grazie a Scuola Oltre da quattro corsi questo gruppo io riesco a raggiungerlo grazie a questa piattaforma e a questa associazione che mette a disposizione un materiale veramente molto corposo e strutturato chi ha già fatto i corsi dei libromani e anche altri corsi con Scuola Oltre sa che il materiale che vi viene fornito in questo corso poi vi serve per tantissimo tempo ed è un materiale molto concreto tutto ciò che io vi trasmetterò oggi a partire dalla lista bibliografica quindi l'elenco di titoli, di libri che io conosco e che io utilizzo che mi piacciono, con cui sono entrata in contatto o che ho scritto è un elenco che non si ripeterà nei prossimi due incontri quindi già oggi parleremo di una trentina di titoli li evocheremo, accenneremo a qualche contenuto, mostrerò le copertine ma nei prossimi incontri ce ne saranno altrettanti ogni volta quindi vedrete che sarà veramente un materiale utile ve lo diciamo perché lo abbiamo sperimentato i libromani cosa fanno? i libromani poi interagiscono Francesca che ha veramente un materiale utile sento un po' di eco della mia voce tra l'altro è normale? senti anche tu Francesca ecco è passato è passato tutto ecco Francesca dicevo che da Angelo del Mare si è trasformata in Angelo del Natale oggi mi seguirà mi accompagnerà e non so come fai ma sarà attenta veramente a tutte le vostre incursioni alle vostre domande e quindi ci aiuterà a rendere proprio più concreta ancora la cosa il gruppo di lavoro naturalmente oggi si tratta di un'ora di presentazione nella quale io comincerò subito ad andare sul concreto mostrandovi qualcosa ma vi prometto che le prossime due volte saranno ancora più fattive avremo passaggi di laboratorio, schede di lavoro e di progettazione e programmazione che io vi passerò seguiremo passo passo la realizzazione molto concreta e anche estemporanea di manufatti che diventano poi pagine sceniche, libri e personaggi mediatori proprio come fanno i libromani ve lo racconterò fra pochissimo e quindi la prima parte dell'incontro sarà sempre una rassegna di meraviglie letterarie la seconda parte sarà un tuffarsi a capofitto con le mani, con la carta e con i materiali di recupero a costruire, costruire libri, pagine sceniche, personaggi mediatori che voi già da questo dicembre potrete utilizzare nel vostro contesto di lavoro e di vita insieme ai bambini rimarranno comunque ispirazioni e progetti molto corposi per il futuro Comincio subito, se sei d'accordo Francesca, a condividere il materiale, le slide che ho preparato e che costituiranno poi anche il materiale che vi verrà inviato da Scuola Oltre Insieme alla registrazione Insieme alla registrazione, insieme ai libri di cui sono autrice vi invierò tutto l'elenco tramite Francesca e tramite Scuola Oltre e vi terrete a contatto con Scuola Oltre per eventuali richieste Scuola Oltre vi dà alla fine di questo mio documento anche l'indirizzo proprio della piattaforma e dell'associazione, giusto? Ecco, dovreste vedere adesso le mie slide che vi metto in presentazione un attimo solo Ve le vediamo, tanto sottolineo anche che ovviamente questo è il materiale che troverete sulla registrazione per questo primo incontro a chi si iscriverà per i prossimi corsi, magari è la prima volta riceverete di volta in volta il materiale da preparare per la volta dopo perché magari servirà della carta di un certo tipo delle forbici, la graffettatrice, lo scotch vi verrà dato tutto un elenco quindi avrete modo di prepararvi per tempo all'incontro per dopo, come ha detto Elisa, mettere le mani non in pasta ma in carta In carta, assolutamente sì Allora, cominciamo con questo viaggio verso il Natale un viaggio che è un viaggio narrativo un viaggio fatto di mediazione narrativa, di creatività anche di arte perché si parla di costruire qualcosa con le proprie mani e con la propria creatività insieme ai bambini con cui viviamo tutti i giorni bambini che soltanto voi conoscete nel vostro caso io vi do un'indicazione, vi do un lancio che fa parte del mio lavoro redazionale autorale, il mio lavoro di consulente editoriale io sono autrice di libri per bambini dal 1996 scrivo testi di libri per bambini per quanto riguarda invece i miei testi sono tradotti in alcuni paesi del mondo per quanto riguarda invece i testi dalle lingue straniere mi occupo di tradurre alcuni libri che hanno le rime dal tedesco, dal francese e dall'inglese quindi mi occupo anche del lavoro di traduzione di rime di cui vi parlerò anche oggi sono una consulente editoriale e una formatrice per quanto riguarda la mediazione narrativa che cos'è la mediazione narrativa? è un ponte mediatore narrativo può essere un oggetto una persona, siamo anche noi può essere una canzone può essere un libro, lo è spesso un libro che fa da ponte fra i bambini e il mondo fra i bambini e le storie fra i bambini e gli altri bambini fra noi e i bambini insomma tutto ciò che è ponte che è mediazione, traduzione ma anche comunicazione a livello generale è quella mediazione dentro la quale noi ci tuffiamo ci tuffiamo occupandoci di storie ma non solo perché ci occuperemo anche di libri che non hanno storie ma hanno rassegne di immagini e sono libri importantissimi comunque per i bambini della vostra età di riferimento che sono i bambini della scuola dell'infanzia potrebbero esserci fra voi anche persone che vivono e lavorano insieme a bambini più grandi o più piccoli sono contenta che ci siano perché non tutti i lettori vivono le tappe di evoluzione di un lettore allo stesso momento perciò vedrete che le nozioni saranno nozioni comunque utili conosceremo le tappe della lettura le tappe dell'ascolto della storia parleremo di racconto narrativo e di ascolto narrativo che sono concetti differenti ma sempre con una concreta attenzione ai laboratori che vanno a fare cosa cosa fanno questi libromani? allora i libromani sono un manipolo di esseri umani smaniosi di costruire libri con le mani che cosa fanno i libromani? e questo lo dico in maniera molto estesa nei miei due manuali che vedete indicati adesso dal cursore mi fai una storia edito da Rizzoli nella collana Bur e c'è anche l'edizione Il Leone Verde che è stata la prima ad uscire Il Leone Verde editore ha fatto poi uscire coraggiosamente anche questo fai un libro, fanne un altro un manuale dove prendo in considerazione il lettore più piccolo e accompagno gli operatori i genitori, gli educatori in un percorso di mediazione narrativa fatto di filastroche di laboratori fatti proprio con le mani come noi libromani facciamo ci sono anche delle canzoni con un cd allegato parlo di libromani anche in questi manuali ma parlo di libromani soprattutto in questi corsi Scuola Oltre che voi avete a disposizione eccomi subito a chiamarti Francesca questi corsi che noi abbiamo già fatto tutti belli impacchettati e pieni di materiale sono scaricabili? come funziona? per chi volesse approfondire i libromani in generico i libromani in primavera i libromani in mare allora ti ringrazio per la domanda che così mi aggiungo ad una domanda che è appena venuta fuori in chat allora Scuola Oltre appunto permette realizza dei webinar gratuiti sempre come primo incontro del corso quindi come hai detto i libromani in mare i libromani in primavera hanno entrambi il primo incontro gratuito volendo e tutti i nostri incontri gratuiti quindi quello anche di oggi finiscono sulla pagina registrazioni webinar gratuiti quindi là trovate una panoramica di tutti i corsi che ci sono stati gratuiti in passato qualora voleste approfondire un corso e accedere alle registrazioni eventualmente è possibile anche acquistare diciamo il corso tramite le registrazioni perfetto molto bene allora che cosa fanno i libromani? i libromani costruiscono libri pagine artistiche sceniche come grandi biglietti di auguri piuttosto che quadri di carta con materiali di recupero sono tutte cose molto molto semplici ma progettate progettate in maniera seria per alzarsi al livello semplice dei bambini ecco sono frutto di un lavoro di tanti anni e di un apporto perché questo è un gruppo che come è già successo per chi ha lavorato con noi e si dà delle idee ci sono delle incursioni ci sono degli scambi veramente interessanti c'è gente che trova materiali inconsueti che dà suggerimenti sul pensiero divergente per lavorare con i bambini con i materiali di recupero idee progettuali proprio pensate per arrivare alla semplicità e la chiarezza di cui i bambini hanno bisogno senza togliere loro l'immaginazione la possibilità di scelta secondo i propri gusti secondo le proprie inclinazioni insomma un gruppo veramente molto creativo i libromani tenetelo bene a mente corrono su con un treno che va su due binari il primo binario è quello della letteratura quindi si parte sempre praticamente da una narrazione che è contenuta in un libro quindi si parte da un libro che si trova in libreria o in biblioteca o a scuola quindi un libro edito un libro che fa parte del corpus letterario di quella che è la cultura con la C maiuscola l'arte con la A maiuscola la letteratura con la L maiuscola di cui dobbiamo essere portatori di conoscenza nel senso che noi dobbiamo come operatori trasferire passare questa comunicazione alle famiglie esiste tutto a una letteratura dove vi potete tuffare come famiglia e trovare quello che cercate o quello che non sapevate esistesse ma vi può dare tantissimo andate ad attingere questa è la la cultura la letteratura che fa crescere che fa crescere sia i genitori che i bambini è un messaggio che come operatori dobbiamo continuare a dare possiamo farlo in vari modi prima di tutto presentando narrazioni che vengono dalla letteratura ai bambini nel nostro ambiente di lavoro che sia la biblioteca la scuola un'associazione fare passare questo messaggio quando un bambino gode di una narrazione quando questa narrazione gli scende dalla testa al cuore il bambino torna a casa e la prima cosa che racconta è questa papà mamma c'era un topolino in quella storia dei cappelli di Natale magari non si ricorda neanche come si chiamava Topazio quel giorno il personaggio che a me piace tanto di Alberto Benevelli e Loretta Serofilli tutti questi titoli poi sono giù nell'ultima slide in bibliografia quindi quando il bimbo ci racconta che gli è piaciuta tanto questa storia noi se abbiamo modo se l'operatore che è stato il mediatore in quel momento ha fornito o ci fornisce il nome degli autori il nome dell'autore il nome dell'illustratore il nome dell'editore di quel libro e un suggerimento su dove trovarli e dove trovare altre loro produzioni allora noi genitori possiamo continuare la nostra opera di educazione letteraria documentandoci noi documentandoci insieme ai nostri bambini e continua questo sviluppo della letteratura questo sviluppo della cultura questo passaggio di informazioni secondo il quale i bambini si propongono modelli anche lavorativi di artisti modelli di arte ogni volta differenti e tutto questo va a lavorare sulla loro autostima artistica sulla loro capacità di risolvere i problemi concreti utilizzando l'arte sono argomenti vastissimi che riguardano lo sviluppo cognitivo e lo sviluppo emotivo e quel ponte interessantissimo che è l'intelligenza emotiva quindi i libromani hanno voglia di costruire voglia di inventare di trovare materiali progettare pagine sceniche partendo sempre da una narrazione di tipo artistico letterario culturale da un libro prendono questo libro io vi ho messo qui l'esempio di Topazzo il cappellino di Natale perché è stato uno dei libri che come ideatrice dei libromani mi ha accompagnato spessissimo vi ho messo qui una fotografia del grande librone che è uno dei primi libri che ho costruito con i libromani ha più di vent'anni questo librone che vedete ho rattoppato in vari modi che ho costruito insieme ad alcuni bambini con dei cartoni di quelli della spesa e un cartoncino Bristol nero abbiamo parlato della progettazione di questo libro fatto proprio così libro grande piccolo un po' alla Munari nel corso dei libromani generale di scuola oltre quindi lì potrete avere tantissime notizie e questo è uno degli esempi di come a partire da una lettura di un libro di letteratura che era Topazzo il cappellino di Natale bambini della scuola infanzia e c'era anche qualche bambino un po' più grande i libromani partono poi per fare un viaggio che è un laboratorio molto intenso ma poco complesso molto semplice divertente zero frustrazione un minimo diciamo di frustrazione e si va a costruire che cosa? i libromani costruiscono libri grandissimi ma anche libri piccolissimi perché giocano su quei meccanismi narrativi che tanto affascinano i bambini il piccolo il grande l'esagerato e la miniatura noi adesso in questo momento di emergenza che io chiamo emergenza narrativa nel mio campo e abbiamo bisogno anche di grandi supporti abbiamo dovuto aumentare un po' le distanze abbiamo dovuto aumentare la gestualità quando parliamo dobbiamo spesso indossare praticamente sempre indossare la mascherina se siamo al chiuso quindi l'idea di poter costruire un mediatore in questo caso un libro molto grande ancora più grande può essere anche un mediatore scenografico un libro grande che si apre come una scenografia ci aiuta nella nostra concretezza ci aiuta a stare bene insieme ai libri anche in condizioni un po' più ristrette di comunicazione i mediatori non solo leggono libri insieme a voce alta li cercano li scovano nelle librerie nelle biblioteche non solo costruiscono libri a partire dagli altri libri che non sono una coppia esatta ma sono una nuova suggestione un gioco un divertimento o anche una riflessione ma nuova ma i libromani regalano libri ecco questo lo fanno perché sono libromani hanno questa mania dei libri e delle narrazioni perciò io qui vi ho messo questa fotografia che è uno dei regali che io ho ricevuto a Natale da piccola da bambina Jules Verne il giro del mondo in 80 giorni le edizioni della Mursia di fine anni 70 con questo oro e con questo editing io bambina che avevo 5 anni cominciavo a leggere avevo a disposizione questo negli anni 70 adesso la letteratura ci offre altri tipi di libri però era un piccolo appunto per ricordarvi che sicuramente se siete interessati a questo tipo di scambio e di corso siete anche voi appassionati di lettura e avete ricevuto in dono un libro lo avete apprezzato ve lo ricordate ancora anche se non l'avete più magari vicino alle vostre mani e ai vostri occhi e dovete farvi secondo me portatori e portatrici anche di questo ulteriore messaggio insieme a quello della letteratura che è importante regaliamo un libro regaliamo un libro facciamo in modo che un libro venga donato ai compleanni parliamo ai genitori di regalare libri organizziamo eventi in cui ci sia la sorpresa del regalo di un libro parliamo in questo corso di Natale abbiamo già detto che ci sono stati dei sondaggi uno dei quali era molto interessante perché mostrava come il libro fosse per i bambini di oggi il regalo subito appena scartato subito messo in un angolo il regalo di Natale subito messo in un angolo per poi adoperarsi a giocare o montare l'ego o giocare con altri giochi spesso di plastica più attraenti in quel momento ma dopo circa un quarto d'ora venti minuti i bambini vanno come formichine a riprendere quel libro in mano libro che mantiene il suo fascino nuovo di nuovo e di avventuroso ogni volta che lo si riprende e lo si rilegge un fascino che gli altri oggetti solitamente non hanno per i bambini è naturale che poi i bambini lo vedono che quello è un libro anche proprio dal pacchetto ma anche se in quel momento non dimostrano la loro gioia perché dichiarano sempre i bambini di volere altro rispetto ai libri o almeno la maggior parte di loro lo apprezzano a lungo andare perciò è importante comunque conservare questa abitudine è tanto più importante dal momento che le famiglie questa abitudine la stanno un po' perdendo va bene non so se ci sono domande Francesca non ti sentiamo scusa mi pensavo di aver attivato il microfono no per adesso domande no c'era solo una docente della primaria che vedeva più il target infanze però ho ribadito quanto hai detto all'inizio insomma gli spunti per la primaria ci possono essere e anzi forse ci devono ce ne saranno tantissimi sì 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 io lavoro poi tantissimo anche nei progetti di continuità non so il tuo nome maestra però io lavoro tantissimo con la continuità perciò vedrai che ci saranno concetti assolutamente interessanti adesso è una promessa che ti faccio come mia intenzione poi bisogna vedere se la riesco a rispettare ma vado avanti e mi dirai poi allora io vi ho mostrato un'immagine che vi ho segnalato come realizzata da Chiara Baudino adesso io voglio fare questo così vedete ecco Chiara Baudino è l'illustratrice di questo piccolo libro che le edizioni book book hanno pubblicato da pochi giorni ti regalo il Natale scritto da me è illustrato da Chiara è una narrazione sto cercando di riprendere l'immagine scusate ecco qua è una narrazione che ho preparato qui per raccontarvi proprio che il nostro corso dei libro omani correrà un po' su questo filo ti regalo il Natale e comincia così com'è grossa la tua lettera quante cose vuoi ricevere mi chiede papà forse è preoccupato per Babbo Natale perché pensa che io gli dia troppo da fare invece quest'anno sono io che mi sono preoccupato per lui per Babbo Natale dentro alla busta ho messo due lettere due una lettera contiene la lista delle cose che desidero per me dice questo bambino l'altra lettera contiene il mio regalo per lui per Babbo Natale gli ho scritto caro Babbo Natale tu viaggi per tutto il mondo nella notte più speciale dell'anno e non ti puoi fermare per viverla come si deve quando avrai svuotato il sacco parcheggiato il carro messo a riposare le renne quando sarai tornato a casa ti sarai tolto gli stivali avrai fatto il bagno e poi avrai fatto un bel pisolino quando al tuo risveglio ti sarai messo c'è un po' troppa luce ti sarai messo davanti al cammino con una bella tazza di cioccolata calda allora potrai leggere questa lettera e finalmente avrai il mio regalo oh oh il Natale il mio regalo per Babbo Natale cominciava così l'ho fatto tutto in un momento ma piano piano un pezzo alla volta sera dopo sera l'idea mi è venuta un pomeriggio di dicembre e da qui cominciano tutta una serie di aperture di pagina nelle quali si alternano momenti di vita quotidiana di questo bambino e di sua sorella a momenti di narrazione della storia della nascita di Gesù questo farà parte del secondo appuntamento nel quale noi ci occuperemo della natività soprattutto di questo toccheremo argomenti come l'Epifania la festa di Santa Lucia il Natale come nascita di Gesù e tutte quelle narrazioni che ci possono servire per partire dalla letteratura e andare verso la costruzione di una pagina scenica di un personaggio di un libro ok quindi vi ho messo questa copertina perché questa è una delle mie scritture che sono uscite da poco tempo continuo la mia condivisione e vado a prendere i miei mediatori io mi sono preparata almeno 5 mediatori 5 oggetti mediatori qui dentro quelli che mi accompagneranno oggi nella mia presentazione di quello che sarà il nostro corso nei prossimi due appuntamenti allora i prossimi due appuntamenti si intitoleranno il Natale sei tu Gesù ed è quello che vi ho appena spiegato e l'appuntamento successivo e ultimo sarà Renne Strenne Calcini e Camini il 29 novembre mentre il prossimo sarà il 22 il 21 no mi aiuto Francesca quando sarà il 22 lunedì sono entrambi di lunedì ok il 22 novembre lezione numero 2 il 29 novembre lezione numero 3 ultima lezione ma comunque lezioni che saranno registrate perciò se vi interessa comunque partecipare non ci siete quel giorno avrete la registrazione giusto? esattamente perfetto ecco prendiamo subito il primo mediatore vediamo che cos'è ah sì ne abbiamo parlato anche in uno dei corsi dei libromani con queste vecchie pattine quel giorno avevamo costruito ma come qua in questo libro tutto vuoto non c'è niente ah no però in effetti avevamo costruito il libro del primo fiocco di neve e poi c'era anche il secondo fiocco di neve il terzo c'erano tanti fiocchi di neve anzi era tutta una fisarmonica di fiocchi di neve una strada di fiocchi di neve la neve la neve come parola chiave noi abbiamo una serie di libri di canzoni di mediazioni letterarie dove ritroviamo sempre delle parole chiave in questo caso la neve il pupazzo di neve la neve come inverno come elemento naturale dell'inverno e ci rendiamo conto o spero che ci rendiamo conto che abbiamo a disposizione libri che cosa raccontiamo ai bambini questa settimana che sta arrivando il Natale facciamo quella storia col pupazzo di neve sappiamo che l'elemento neve l'elemento natura l'elemento freddo ce l'abbiamo all'interno di queste narrazioni che abbiamo trovato il libro della biblioteca il libro che abbiamo nella biblioteca scolastica il libro che la maestra aveva a casa e lo porta a scuola ecco in questo modo fornendovi delle parole chiave e utilizzando questi oggetti mediatori che possono essere anche l'inizio di un momento di narrazione insieme ai bambini per poi passare a prendere un libro che ho portato da casa o che ho nello scaffale possano darvi spunto per rendervi conto nel fatto che abbiate o meno tutti questi elementi che corrispondono un po' alle parole chiave narrative per arrivare al Natale e mentre una volta le produzioni letterarie erano veramente poche sul Natale anche per un problema di marketing adesso noi possiamo fare veramente un avvento nel quale ogni giorno a partire dal primo dicembre fino alle vacanze di Natale noi abbiamo un bel libro a disposizione c'è qualche maestra che lo fa qualche altra maestra molto più semplicemente anche in maniera molto divertente sceglie un libro che la accompagnerà in tutto il percorso che va verso il Natale tutto va bene ma nel caso in cui vogliate usare più narrazioni occupandovi proprio dell'avvento al Natale sappiate che sarebbe bene secondo me perché questo stimola molto di più i bambini ed è più divertente e tiene più l'attenzione è bene che voi scegliate narrazioni in cui queste parole chiave si ritrovino questi concetti si ritrovino la mediazione diventa più efficace allora per quanto riguarda la neve si può parlare del nostro luogo il luogo in cui viviamo dove a volte nevita a volte no dipende da dove state in quale zona d'Italia state c'è magari qualcuno di voi che si trova all'estero come avviene a volte per gli amici di scuola oltre magari qualcuno risiede in un luogo dove d'inverno dove scusate a Natale non nevica assolutamente perché è molto caldo si può parlare anche di questo alla scuola dell'infanzia di bambini che abitano lontano da noi dove festeggiano il Natale in un momento in cui non fa così freddo queste riflessioni possono essere tutte colte da libri da cui noi partiamo con la neve solitamente c'è l'abbinamento del pupazzo di neve che ha tutto un suo simbolismo tutto un suo aspetto molto anche materico molto interessante per un pubblico di bambini o direi per un gruppo di lettura di bambini che non è un pubblico da intrattenere ma è un gruppo che dialoga che interviene un cerchio di narrazione dove siamo tutti alla stessa alla stessa altezza pur mantenendo noi adulti le briglie l'autorevolezza e le briglie del momento di narrazione ci sono anche tante strategie per farlo di cui parlo nei miei manuali quelli che vi ho citato prima qui con queste parole chiave con questi oggetti mediatori che vi presento abbino una o due suggestioni letterarie allora avete alla vostra destra Gerda Müller che è un'autrice illustratrice che assolutamente non potete non conoscere se lavorate con i bambini un artista posso chiederti di mettere in presentazione che così forse si leggono meglio i titoli ma certo dalla disposizione corrente sì qui c'è con la mascherina eccola presentazione da lì ah no dalla lì ok scusa va bene andiamo avanti adesso vado giù appena me lo prende eccola lì Gerda Müller vedete meglio vero? sì meglio grazie a parte che adesso io devo fare questa cosa perché ve lo voglio far vedere da qua Gerda Müller è questa illustratrice ne abbiamo già parlato in altri corsi adesso io vi mostro questo è il cofanetto che vi ho indicato Seasons che vi ho indicato alla fine bibliografia sono le quattro stagioni sono dei silent book dei libri senza parole dove ci sono tutti questi meravigliosi disegni i libri cartonati con le pagine cartonate quindi molto molto resistenti veramente meravigliosi pieni di particolari libri a volte anche molto brulicanti con particolari da andare a ricercare e a ritrovare colore non rende bene perché c'è una luce un po' strana Gerda Müller ha pubblicato in Italia con Baba Libri insomma loro le hanno pubblicato anche il libro dove ci sono tutte quelle orme che vi sto per far vedere adesso e che indovina che cosa succede anche qui c'è la neve c'è l'inverno c'è questo ricorrere alla stagionalità un po' più vicina agli ambienti dove c'è il freddo a Natale ok morbido Natale morbido fare invece è un libro di cui sono autrice nella parte del testo ovviamente è questo è stato non illustrato ma preparato nella parte delle immagini da Silvia Bonanni e che cos'è è una viceversa della Bacchilega Junior Edizioni e adesso vi sto mostrando una piccola scarpetta di lana che è diventata proprio lui il pupazzo Alfredo la narrazione si svolge con una filastrocca sul Natale un Natale molto morbido perché perché vedete inizia con questa situazione c'è un bambino che guarda fuori dalla finestra e si accorge che è tutto bianco tutto bianco e allora si mette cappotto sciarpa stivali guanti Berretto per andare fuori a conoscere la neve costruisce un pupazzo che chiama Alfredo e questo pupazzo a un certo punto cambia la tecnica da carta collage diventa un pupazzo fotografato fatto di stoffa e di indumenti di riciclo e di recupero e questa narrazione cambia perché Alfredo comincia a parlare racconta una storia che è quella del Natale una storia dove troviamo vari elementi guardate che meraviglia questi questi guanti troviamo vari elementi che fanno parte del Natale anche con la nascita di un piccolo Gesù messo dentro un calzino qui c'è un'arena di cui vi parlo fra poco ok dall'altra parte del libro Silvia si preoccupa di farci vedere con che cosa possiamo costruire tutto quello che ha costruito anche lei guardate questo osinello com'è carino con tutti i materiali tutti i nomi e tutti i materiali molto interessante vedere come questo è diventato questo Silvia è veramente un'artista maestra in queste trasformazioni lei disegna con le forbici con l'ago e con il filo Silvia Bonanni potete andare a vedere anche il suo sito tutte le sue pubblicazioni che sono tante veramente molto belle e potete trovare anche qualcosa di molto molto importante che vi ho segnalato nel materiale che vi arriva che è la narrazione di questa storia in lissa in lingua dei segni fatta a cura di Radio Magica con un video che è accessibile a tutti di cui io vi darò il link con il materiale che riceverete in questo video c'è anche la canzone con il mio testo che è inserito dentro il libro con la musica di Silvio Bertozzi che si intitola Morbido Mare e potrà essere un ulteriore mediatore scusate Morbido Natale potrà essere un ulteriore mediatore per voi ho detto Morbido Mare perché c'è anche la versione di Morbido Mare fatta da me e Silvia Bonanni spero che fino adesso sia tutto chiaro il mediatore Neve e Puppazzo di Neve può essere presente in tanti libri di cui parleremo nei prossimi incontri di cui parleremo ma la neve il freddo la neve da toccare la neve da ascoltare invece c'è anche il rumore della neve è molto interessante per i bambini c'è qualcuno che vuole intervenire? No, vero? Allora continuo con la presentazione qualcuno vuole intervenire in caso avete anche la funzione per alzare la mano o potete scriverlo in chat per adesso insomma rassicuro che i materiali ripeto vengono li trovate le slide quando parliamo di materiali slide con bibliografia riferimenti e altro che stava facendo Elisa li trovate sulla pagina registrazioni webinar gratuiti quindi di solito in una settimana è tutto caricato a volte anche meno però insomma vediamo stiamo larghi coi tempi andate e trovate proprio Libromani speciale Natale e la potete scaricarvi tutto quanto Perfetto allora un altro mediatore è questo piccolo cavallino per parlare di animali un pazzo di neve non è certo un animale ci sono tutta una serie di animali che ritroviamo nelle narrazioni natalizie li ritroviamo ormai tutti i bambini sono conoscitori degli animali sono fantastici conoscitori e anche a volte del loro nome scientifico cercano di collezionare sempre più nomi di animali sempre più animali dalle diverse provenienze dalle diverse forme poi vedete che ci sono delle incursioni in letteratura animali che noi in Italia non conoscevamo bene sono arrivate è arrivato il bombato è arrivato il furetto è arrivato il bradipo già da tanti anni già Eric Carlin ce l'aveva suggerito ma non arrivava non arrivava poi è arrivato il furetto come fa è un libro illustrato da Carlotta Passarini che io ho appena scritto è un cartonato ci sono le onomatope ci sono i nomi correnti i verbi scusate per indicare come fanno gli animali la giraffa landisce l'elefante barrisce e poi ci sono anche le onomatopee ma di questo parleremo forse in un altro corso gli animali ci sono degli animali in queste narrazioni scegliamo una narrazione di Natale che abbia gli animali come protagonisti o come co-protagonisti Francesca me l'ha detto me l'ha già dichiarato e tutto il maestrame è in cerca di renne renne a profusione e renne avrete perché di renne in letteratura ce ne sono tantissime per tutto probabilmente troverete renne di tutti i tipi io ho immaginato per voi proprio per prendere la renna come esempio ma la prossima volta parleremo di volpi ad esempio nelle narrazioni le narrazioni dei libri con autori eccellenti che hanno delle volpi meravigliose parleremo anche di topi un po' di tutto ma renne io ne ho immaginati almeno 10 quando tu Francesca prima mi hai detto questa cosa della renna io mi sono segnata 10 renne che mi sono venute in mente non solo questa che mi ero preparata per fare ancora più bella figura altro che renna più renna più renna come vi dico qua nel video di cui vi lascio il link dove vi racconto in 4 minuti come fare un bel laboratorio di costruzione di una renna e vi do anche qualche notizia storica sulle renne della letteratura altro che quello io ho immaginato 10 tipi di renne per esempio per esempio di che renne noi possiamo fare uso insieme ai bambini e con la letteratura renne fotografate avete a scuola delle immagini di renne fotografate avete a scuola dei libri di divulgazione delle enciclopedie fotografiche che non devono mancare non solo alla scuola primaria ma anche alla scuola dell'infanzia perché i bambini in solitaria o anche in gruppo possano avere modo di accedere a questo album fotografico strepitoso di fascino ineguagliabile per loro questo è il regno animale edizione Gribaudo dove troviamo fra i cervidi le renne ma anche gli alci insieme ai cervi di diverse forme e con diversi nomi numerati che possiamo indicare alla maestra che poi ci viene a leggere il nome arrivo qui da un po' di tempo come oggetto di consultazione per quando scrivo i libri anche il grande dizionario illustrato degli animali di Giunti che mi è molto utile perché è in ordine alfabetico quindi vedere anche il mediatore la maestra che dice allora rennacular andiamo a vedere qui è medusa no no questo qui è l'urso no no qui invece c'è il pettirosso noi stiamo cercando la renna è comunque divertente anche se ancora non si coglie l'ordine delle lettere l'ordine alfabetico ma si conoscono le lettere si riconoscono le lettere del proprio nome scritto sulla documentazione sui lavori che facciamo cominciamo a saperlo scrivere il nostro nome e allora è interessante anche tutta questa mediazione sui suoni delle parole ecco che mi avvicino alla renna e scopro qui renna vedete che la renna nel nord america la chiamano caribù ah allora caribù vuol dire renna nel nord america in un posto lontano e magari prendiamo anche il mappamongo e scopriamo dove sono le renne vi annuncio che fra oggi e domani uscirà la mia nuova goccia di brio nella mia pagina facebook elisa mazzoli autrice per bambini ci sarà la goccia numero 40 mi pare che si chiamerà mappamondo e parleremo anche di quello quindi renna numero 1 una renna fotografata in un libro di divulgazione in un libro in un'enciclopedia degli animali renna fotografata pure anche avendolo a disposizione un bel libro di quelli montessoriani fotografici con tanto spazio cartonati con pagine cartonate per vedere bene la fotografia dell'arena magari anche con la nomenclatura può essere anche una scheda numero 2 un'arena disegnata questa volta in letteratura naturale così com'è proprio senza particolari antropomorfismi o comportamenti umani ancora non siamo nella favola come quella che chi ha la mia età si ricorderà nel libro degli ignomi il libro degli ignomi della Rizzoli e aveva questi ignometti che si muovevano nella natura e anche qui ci sono c'è l'invenzione la fantasia la leggenda il mito dell'ognomo inserito però in una natura e disegnato con un realismo veramente profondo e c'è una renna che io ricordavo che è questa la renna che si è impigliata con il palco con le corna in una spranda in un filo di ferro che l'ognomo prontamente si adopera a rimuovere e anche questo è un altro tipo di renna quindi abbiamo libri fotografici con le renne realistiche fotografate e magari descritte nelle loro sembianze nelle loro abitudini abbiamo un libro con una renna disegnata da un artista che la ritratta in maniera naturale però vedete che qui la renna è proprio una renna una renna che è rimasta ferita nella neve in una staccionata non è una renna che ha dei comportamenti come nella favola comportamenti umani non parla non fa cose magiche abbiamo un altro tipo di renna che è una renna come nei libri di Emma Dodd come questo che vi ho che vi ho indicato qui questi libri molto molto dolci ma anche molto belli dove c'è proprio la relazione di amore fra l'adulto e il bambino questa dolcezza dove si rassicura il bambino in pagine sceniche con uno sfondo di pagine sceniche molto belli ecco qui c'è un Natale d'amore dove c'è mamma renna o la piccola renna che sono disegnate in maniera abbastanza naturale così come corrisponde la realtà però si parlano con un linguaggio che è propriamente umano e e questo è un'altra caratteristica di questa renna di questi animali che noi troviamo nelle narrazioni di Natale c'è un messaggio d'amore che potrebbe essere dato da una mamma al suo piccolino però è raccontato da una renna c'è il simbolo quindi un altro tipo di renna è una renna sempre disegnata in maniera realistica ma che fa parte di un racconto che è quello di cui vado a parlarvi fra poco fra pochissimo quello di Clement Moore era la notte prima di Natale vi faccio soltanto vedere qui queste renne come sono disegnate sempre con le loro sembianze di renna questa volta volano quindi c'è un elemento magico non parlano in questa storia ma arrivano atterrano sul tetto di questa famiglia e volano ed è la prima volta ragazzi 1823 quando è stata scritta mi pare anni 50 quando è stata pubblicata prima in una rivista e poi in un libro è stata la prima narrazione questa qui di Clement Moore nella quale sono state nominate le renne quindi il carro con le renne con tutti i loro nomi Comet Cupid Vixel Prexen eccetera eccetera e Babbo Natale come Santa Claus compare questa figura di Babbo Natale chiamato Santa Claus la prima narrazione in questo libro delle edizioni pulce con le illustrazioni originali della Wilcox quindi è un libro veramente di interesse storico importante c'è la traduzione di cui mi sono occupata io quindi sono state mantenute le rime ed è stato portato in italiano affiancato proprio alle immagini originali per farvi c'è anche un cenno storico nel libro quello che vi ho detto prima per farvi assaggiare un po' la rima si tratta di questo la notte prima di Natale tutto in casa riposava non sudiva alcun rumore neanche un topo che passava tante calze erano appese con gran cura nel camino chissà se Babbo Natale si trovava di vicino i bambini rannecchiati al calduccio dentro i letti già dormivano sognando di regali e di dolcetti e mia moglie per dormire si era messa un fazzoletto mentre io indossavo sempre il mio solito berretto quando fuori là nel prato ho sentito un gran rumore sono balzato via dal letto per andare giù a vedere sono corso alla finestra per capire la ragione dell'insolito trambusto e di quella confusione e la luna si appoggiava sulla landa addormentata mentre illuminava a giorno tutta quanta la vallata cosa vidi allora io sulla neve bianca e fitta sette otto nove renne che trainavano una slitta quella slitta era guidata da un vecchietto un po' speciale e io ero quasi certo fosse lui babbo natale con le renne come aquile e la slitta che volava lui con grida e lunghi fischi tutte quante le incitava e poi babbo natale comincia a dire tutti i nomi delle renne c'è tutta una narrazione molto interessante su questo ed è una poesia questa è una poesia che è quella più famosa raccontata in vari modi nei decenni in tutti gli stati del mondo perché è proprio stata la prima volta in cui si nominavano le renne e Santa Claus la renna qui era disegnata non parlava ma volava e quindi c'era questa caratteristica magica del suo comportamento e entriamo nella fantasia ma poi ci sono tante altre renne c'è Rudolf la renna con il naso rosso che incontrate in varie narrazioni sia di libri che di canzoni una storia inclusiva una storia inclusiva anche di questa origine vi parlo in quel video di cui vi ho messo il link qui chi l'ha inventata chi l'ha poi musicata questa storia di Rudolf una delle storie che parlano di inclusione di amicizia con chi prima veniva isolato per una sua caratteristica fisica diversa dagli altri ci sono le renne che non sono nominate in alcune storie ad esempio nelle 50 storie per stare insieme alle storie che ho scritto per pulce edizioni io ho parlato di un bambino che si chiama Nicola e che da grande vuole fare Babbo Natale l'illustratore Danilo Fresta ha immaginato questo momento in cui l'armadio del bambino dove lui tiene i regali per il Natale per allenarsi a fare Babbo Natale si trasforma in una slitta trainata da una renna quindi ci sono anche le renne evocate dalle parole o dalle canzoni e immaginate nella loro conformazione fisica ci sono le renne nelle canzoni ci sono tante canzoni ad esempio mi viene in mente quella di Cavie e Piumini cosa fanno le renne quando hanno finito di portare le strenne parleremo anche di questo ci sono le carte degli animali che ho scritto per il Leone Verde edizioni che hanno fra le altre 32 animali hanno anche la renna disegnata da Michela Gastaldi anche questo ce l'avete in bibliografia con la filastroca sul movimento che la renna fa cosa fa la renna che si allena su le corna giù le corna su le corna giù le corna nuota ruota prende ruota sale 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 ed è pronta per Natale piccole filastrocche che invitano a un gioco di movimento tutte fatte con animali diversi qui c'è anche il panda queste illustrazioni sono meravigliose ci sono i burattini di renna ad esempio io qui vicino ho testa di renna testa di renna mi accompagna da qualche anno con i bambini ecco lui compare sempre a un certo punto vuole parlare ciao bambini oggi voglio scegliere un libro bellissimo ho scelto un libro e poi vengo da voi aspettate che lo prendo ecco cosa ho scelto cosa ho scelto questo bellissimo libro di gribaudo dove c'è questo pitti rosso così gentile generoso di cui parleremo che regala le sue magliette agli altri animali veramente una bellissima narrazione e questa è un'altra renna un mediatore burattino potremmo avere anche burattino pupazzo potremmo avere anche il pupazzo perché non è un burattino giustamente il pupazzo mediatore narrativo renna perché no la canzone che vi ho detto è un mediatore il pupazzo è un mediatore la renna Sonia che appunto faceva parte di quel morbido Natale che vi ho aperto prima la renna Sonia non viene dal bosco ma dalla Lapponia vola sempre in viaggio ma non è spaziale è nell'equipaggio di Babbo Natale ed ecco qui un altro pupazzo da costruire con i suggerimenti di Silvia Bonanni per fare la renna Sonia con guanti calzettoni bottoni e un pupone idrofilo quindi anche qui avrete le istruzioni e fa parte sempre di quella narrazione anche volendo musicata che potrete avere a disposizione insomma è importante avere la consapevolezza che abbiamo a disposizione renne della fantasia renne che volano ma dobbiamo anche tener conto del fatto che sono molto interessanti per nominare il mondo mettere in ordine i propri pensieri anche le renne fotografate le renne come sono così in natura hanno un fascino inestimabile per i bambini e direi che sono una tappa da incontrare gli animali fotografati gli animali disegnati realisticamente sin da subito è importante che i bambini molto piccoli che arrivano alla vostra scuola con cui voi vivete abbiano modo di nominare animali non la renna in particolare ma animali nelle loro reali sembianze credo che siate d'accordo con me in questo l'avrete anche sperimentato nella vostra esperienza o no? Siamo oggi sono un po' timide o timidi anche scusate anche perché abbiamo poco tempo Sì stiamo verso la fine non so se avevi disaurito quello che quasi quasi perfetto Un'altra parola chiave abbiamo detto c'era prima Babbo Natale perché parleremo profusamente di Babbo Natale nelle sue forme nelle sue identità nella sua storia e soprattutto nel terzo appuntamento ma anche nel secondo vi dirò l'albero è un altro mediatore che raccoglie tanti tipi di narrazioni l'albero il cerchio che si forma intorno all'albero è veramente molto importante per quanto riguarda le narrazioni del Natale addobbi luci colori simboli narrazioni che partono dalla centralità dell'albero come simbolo di vita simbolo di condivisione di vita nuova della natura ma vita nuova anche dentro di noi sono importantissime e ci danno mille spunti a livello letterario vi ho messo qui oggi così come personaggio da evocare la pimpa la pimpa è la storia di Natale invece è un albero davvero simpatico e vi dico anche che ci saranno due laboratori particolari che noi porteremo avanti con tutte le schede per andare avanti nei passaggi di costruzione che cominceremo a eseguire ma chi vuole li può anche già esaurire mentre lavoriamo la prossima volta e avere già il prodotto finito saranno l'albero di Rudolf che costruiremo con la carta e i materiali di recupero che vi dirò di portare nella scheda che Francesca vi invierà e saranno il presepe del mio cuore con il riferimento alla natività e anche questo sarà un laboratorio veramente molto divertente che svolgeremo con carta e materiali di recupero materiali molto semplici ve lo dicono niente di complesso sì praticamente ho finito quindi parole chiave da ricordare nelle narrazioni la natività sul Natale l'albero figura di Babbo Natale gli animali presenti nelle narrazioni del Natale gli elementi della natura in questo caso in particolare la neve che va a collegarsi al pupazzo di neve dalla prossima volta noi cominceremo a utilizzare carta e raccontare qui ad esempio con questa piccola pallina di Natale che è diventata gigantesca dove abbiamo utilizzato soltanto un materiale insieme applicato ad un altro che era il cartoncino con la gomma crepla brillantinata abbiamo messo tanti grandi temi del Natale il regalo l'albero la lettera e alcuni altri che vedremo per avere un mediatore che ci portasse a raccontare più storie erano sei giorni ed erano sei narrazioni di Natale parleremo anche di questo vedremo poi Francesca che ci sono tanti tipi di libri che ci vengono incontro per costruirne altri parleremo di personaggi forti Topotip La Pimpa Elmer Spotti Topazio Il bastoncino di Axel Scheffler e Giulia Donaldson che magari già conosciamo in altre narrazioni e che hanno anche libri sul Natale ci sono tanti libri con la poesia o la rima ci sono libri meravigliosi poetici in rima con mille suggestioni meravigliose che io vi consiglierò Beatrix Potter con le sue narrazioni del Natale pubblicate ultimamente Io e mio questa per Nille Bo molto delicata carina realistica sul Natale sull'inverno libri con carta tecnica vuol dire libri con forme particolari tagli flap finestre libri kamishibai calendari dell'avvento idea anche sull'epifania e sulla befana ce ne sarà per tutti e andremo molto ma molto sul concreto che dire grazie io non so da voi ma qua a Padova sento già i campanelli che suonano la neve che scende fuori dalla finestra veramente l'atmosfera natalista ha sempre la sua magia come ce l'hai ricordata ce l'ha per i bambini ma dobbiamo anche sentirla noi e anche come si può dire mi viene solo dire cavalcarla insomma stimolarla e farla perché credo che la magia poi che si suscita negli occhi di bambini come hai detto tu anche la fantasia la creatività tutto quello che ci possiamo mettere dentro in questo periodo è tutto di guadagnato è veramente da tanto ai bambini ecco per deformazione professionale ma anche per impeto mio ho questa gioia quando parlo del Natale perché so che il Natale insomma a parte la festa più speciale come ho detto secondo me nella presentazione il Natale fa breccia proprio anche in quella che è il nostro lavoro sulla mediazione narrativa e sulla condivisione di storie per tutto l'anno come dico nella canzone del morbido Natale morbido Natale ma non solo quello per fantasticare tutto l'anno è bello ecco ci porta se noi l'ambientazione del Natale non la usiamo soltanto come una cornice con i campanelli con i fiocchetti di neve brillantini ma facciamo scendere dalla testa al cuore dei bambini delle narrazioni che parlano di Natale ma di condivisione di stare bene insieme di ripararsi in un nido di rinunciare a qualcosa perdonarlo a chi non ne ha questo ci apre a tutti gli altri tipi di narrazione che poi proponiamo durante l'anno e questo è un po' anche il vero significato del Natale ti do assolutamente ragione assolutamente beh che dire ci sono tanti ringraziamenti Antonella addirittura dice questo Natale sarà speciale per i bimbi grazie a voi ma grazie a voi insegnanti grazie a voi maestre grazie a voi che lo riportate perché un conto è ascoltare e dire ah che bello sarebbe interessante dopo un conto è farlo bisogna farlo queste attività riportare queste attività didattiche non so se c'è qualcuno che ha già lavorato con noi Francesca che ci può dire qualche cosa sì qualche nome aspetta no volevo dire tra l'altro adesso ritorno su cercare i nomi di chi ha già seguito un corso e c'è qualcuno che ha detto ah mi piacerebbe tanto adesso non trovo mi piacerebbe tanto fare raccontare storie inventare mi manca la mano artistica allora non ti preoccupare perché ovviamente e giustamente il tutti i laboratori che ti propone Elisa i passaggi laboratoriali cioè taglia qua piega qua incolla qua bravilla proprio praticamente sono a misura di bambino quindi sono veramente cose che puoi fare anche tu ovviamente con i tuoi bambini e quindi sono semplici veramente saranno a portata di tutte e di tutti scusatemi sempre i massietti anzi Francesca mi fai venire in mente se posso che proprio ci sono alcuni passaggi che vengono spiegati sia in caso di laboratorio con i bambini sia in caso di preparazione soltanto da parte di adulti ci sono le doppie versioni quindi più semplificata nulla di complicato ecco bene hai fatto bene a specificarlo poi come ha detto Elisa durante il corso proprio li farete perché comunque è bene anche trovare a fare vedere quali possono essere i passaggi più o meno critici o come spiegarlo ai vostri bambini quindi verrete accompagnati in questo corso proprio anche nella realizzazione pratica e tenete conto che il corso dura fino al 22 29 novembre quindi avete tutto il tempo poi di portarlo ai vostri bambini avete tutto dicembre per realizzare questi lavoretti con i vostri bambini per portarli alla scoperta del Natale io ho già postato ne approfitto sia sulla chat che tra i commenti di Facebook vi sottolineo il link per l'attestato di oggi e anche però il link alla pagina dedicata al corso dove troverete appunto gli assunti di tutte quante le informazioni ad esempio ribadisco il secondo incontro lunedì 22 novembre il Natale sei tu Gesù il terzo incontro il 29 novembre Renne Estrenne Calzini e Camini ultimo incontro lo potete trovare su Sofia questo corso e lo trovate ovviamente o con il titolo i libromani speciali Natale oppure con il codice della seconda edizione 95467 ve lo sottolineo perché magari nella ricerca col nome magari vengono fuori tutti i dati corsi invece così siete sicuri di andare a trovare quello giusto potete iscrivervi sia con carta del docente e potete inviarmela anche via mail da carta del docente buono da 59 euro sia con un ordine sul nostro sito e mi riaggancio ad un'altra cosa che il corso il primo corso dove spiegavi tutte le procedure tutti i vari tipi di libri di costruzioni attenzione che è tra i corsi che potete avere gratuitamente se siete i nostri soci quindi se volete farvi il regalo di Natale anche voi vi affidiate alla nostra associazione sono 10 euro acquistate questo corso e avrete anche il primo in omaggio quindi potrete dopo andare a rivedere tutte le basi di costruzione che abbiamo affrontato insieme ad Elisa nel primo proprio primissimo issimo corso sono ecco le quali che sono saltate fuori Roberta Stori io ho fatto quello del 2020 il pirata Giampatata e gli altri bellissimo poi c'è anche Roberta Ninonà che ha sempre fatto con voi non so se c'è qualcuna che ha qualche domanda vado a vedere anche su Facebook Damiana che dice grazie quanti spunti belle idee rimbocchiamoci le maniche brava hai detto hai detto bene se no si riempiono di colla le maniche ecco ricordiamo anche Francesca se posso che i contenuti e i passaggi di laboratorio dell'albero di Rudolf e del presepe del mio cuore saranno un'esclusiva di Scuola Oltre io faccio tanti laboratori sul territorio italiano e faccio anche di queste video gocce di brio nella pagina che vi ho messo adesso a disposizione in chat ma i contenuti di Scuola Oltre sono esclusivi quindi non li vedrete da altre parti ecco questo è un'esclusiva per Scuola Oltre ed è giusto anche per voi che fate questo corso a pagamento mi sembra ovvio che Scuola Oltre che io attraverso Scuola Oltre debba inventare cose proprio per voi ecco quindi sono esclusive quindi avete delle esclusive anche per voi e per i vostri bambini ah c'era una domanda sì scusate non me la sono dimenticata il libro quello degli gnomi puoi ripetere oppure c'è in bibliografia questo è un libro che troverete nelle biblioteche penso che ci siano anche delle edizioni aggiornate questo ho fatto tutto rovinato perché era proprio il mio vedete io da piccola mi ero fatta anche il timbro proprio con i numeri dei libri mi chiamavano così e quindi mi sono fatta il timbro questo era un'edizione della Rizzoli che penso si possa trovare anche in versione più moderna gnomi molto facile da ricordare il titolo quindi sono io che ve l'ho richiesto perché da piccola l'avevo anch'io ma l'abbiamo perso era il fenomeno della sabbia e volevo di nuovo esatto e volevo di nuovo averlo gnomi si intitola gnomi sì della Rizzoli bellissimo è meraviglioso guarda saltano fuori dei ricordi come dicevo Elisa sono andata anch'io in libreria da poco e ho rivisto un libro che era nei miei cassetti della memoria che era il pacchetto rosso che me lo ricordo andrò dopo a ricercarlo nella libreria di casa ne parleremo ne parleremo esatto allora non mi pare di aver visto altre domande se non è così scrivetelo c'era ecco una bella Antonio che scrive nel mio paese si festeggia San Nicola anche da me San Nicolò il 6 dicembre che non è altro che Santa Claus è sempre bello raccontare le storie della nostra tradizione i bambini ancora oggi si appassionano e non vedono l'ora di ricevere i regali e quanto altro di chieste le letterine ho ritenuto di creare personalmente i versi traducendo l'invernacolo in lingua inglese è sempre il periodo natalizio che bello tu hai ragione su San Nicolò guarda anch'io sempre fatto era un appuntamento fisso e quanto ci sono rimasta male quando non mi ha portato niente ed ero grande però mia mamma mi ha guardato ormai sei troppo grande secondo me e quindi niente io ci sono rimasta malissimo e te l'hai presa con la mamma o con San Nicola? con me stesa che ero cresciuta cresciuta non si può fare altrimenti va bene allora scusate io penso la prima parte dove stavate leggendo il primo libro allora guarda io ne abbiamo le scelte il primo era ti regalo il Natale scritto da me mi pare illustrazione di Chiara Baudino comunque ce l'hai in bibliografia ti verrà inviato ecco quindi allora ripassiamo tutto quanto allora oggi registrazione materiale quindi anche con la bibliografia e quello che abbiamo fondato oggi lo trovate nel giro entro una settimana ma diciamo che insomma entro 3, 4, 5 giorni troverete sulla pagina registrazioni webinar gratuiti del sito di Scuola Oltre andate là lasciate il nome la mail e troverete tutto quanto ve lo potete scaricare l'attestato il link ve lo ho messo in chat per il link di oggi se qualcuno si fermasse qua e volesse scaricarlo ve lo riposto almeno in chat per chi invece vuole continuare vi ricordo che ci saranno altri due appuntamenti uno sul Natale sei tu Natale Gesù e le renne strenne calzini e camini che mi piace tantissimo come titolo e potete iscrivervi su Sofia potete pagare con carta del docente con un buono da 59 euro oppure con un ordine sul nostro sito a 59 euro con bonifico Paypal se siete i nostri soci e se non siete i nostri soci purtroppo per legge dobbiamo applicare l'IVA e quindi viene un pochino di più viene 71,98 se con l'occasione vi ricordo volete diventare soci l'anno sociale è uguale all'anno solare quindi durerebbe fino a dicembre però però acquistate un corso e ne avete uno in omaggio da soci potete anche avere un altro corso in più e anche magari proprio quello di iniziale con le basi dei libromani che fa parte proprio dei corsi soci messi a disposizione a scuola oltre tutti i corsisti riceveranno il link per una pagina dedicata al corso c'è una pagina solo per voi dove troverete tutte le registrazioni tutti i materiali e l'attestato riconosciuto dal mio orpario a 10 ore formative ogni volta il corsista ovviamente daremo la lista dei materiali da preparare per la volta dopo quindi non aspettate gli ultimi minuti per iscrivervi perché avete bisogno di preparare il materiale non aspettate gli ultimi giorni le ultime ore perché capita anche così perché ovviamente dovremmo avere un minimo di persone per far partire il corso quindi aiutateci a raggiungere anche questi questi numeri e che dire mi pare che abbiamo detto tutto e quindi Francesca prego scusa quel libro è fatto a forma di pallina di Natale l'ho fatto vedere prima Elisa Mazzoli molto bello che è semplice e d'effetto molto carino dentro le pagine Elisa come sono le pagine le parleremo questo libro pallina di Natale cosa ti ho mostrato prima ti ho mostrato il regalo ti ho mostrato l'albero e ti ho mostrato la lettera ma ci sono altre tre aperture di pagina che mostrerò va bene grazie grazie mille grazie Dante è sempre interessante grazie bene mi pare che abbiamo detto tutto quindi grazie ancora Elisa veramente per la tua professionalità per tutte le belle cose che ci dici ogni volta è sempre bello ascoltarti penso di dirlo insomma anche a nome di chi ci sta seguendo grazie a chi ci ha seguito su Zoom che è stato con noi fino adesso grazie a chi ci ha seguito su Facebook grazie a chi ci vedrà tramite la registrazione vi aspettiamo iscrivetevi e se avete qualche domanda mandate una mail a info chioccolascolavoltre.it grazie davvero a tutti per essere stati qua con noi oggi grazie una sera a tutti ciao 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 Elisa buonasera a tutti ciao